Tutti i nostri sogni e i nostri desideri sono stati scritti su dei piccoli foglietti verdi e c'è un contenitore legato lì alla mongolfiera. Adesso quella mongolfiera volerà in alto con tutti i nostri sogni e i nostri desideri e speriamo che volino così in alto, ma talmente in alto che sia impossibile dire di no. Ecco, ecco, ecco la nostra Teresa, la bella, la bella della situazione che farà volare la mongolfiera con tutti i nostri desideri, bambini. Un applauso. Grazie. 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 Grazie.